C'è stato un pestaggio pochi giorni fa di tempo nei confronti di un giovane bengarese picchiato con pugni e calci dal branco a Castellammare di Stabia, ci troviamo in campagna ovviamente, della famosa villa comunale. Pensate che una rivista infatti è raccontato che il ragazzo è stato accerchiato dapprima da circa dieci ragazzi che lo hanno colpito con pugni, schiaffi, calci, rischiando addirittura di provocargli la morte. Il ragazzo è stato picchiato nella famosa Casa Armonica, che è una struttura ubicata nel centro della città sotto gli occhi attoniti di molte persone che però, al posto di andare a intervenire, sono limitate a riprendere dall'inizio alla fine quello che stava per l'appunto accadendo. Va bene? Ovviamente è arrivata la condanna da parte del mondo delle istituzioni politiche, ma anche dal mondo clericale, dal mondo religioso di Castellammare di Stabia, che si è stretto nel dolore e nel coro unanime, facendo sapere che queste cose devono essere estirpate da subito e non devono essere presenti in un territorio magnifico come la Campania, come anche altrove. Questo video termina qui, questo video non vuole, ripeto, non vuole leggere le parole di questo giovane ragazzo, bengalese, nazionale bengalese, né di altri esseri umani, ma solo informare e stop. Lasci per questo motivo, non per altri motivi. Una buona giornata a tutti da andare a vedere.